La crema Intensive Renewal Elisir è il prodotto ideale per contrastare acne, eczema, rosacea, psoriasi e questo grazie a che cosa? Grazie all'azione combinata di ingredienti ad altissima qualità, concentrazione e biodisponibilità come il CBD che disinfiamma, un acido ialuronico a bassissimo peso molecolare a massima assorbibilità che idrata in profondità e l'elastina per mantenere la pelle elastica e sempre tonica in salute. Bene, non aspettare oltre, prova oggi stesso l'Intensive Renewal Elisir per scoprire una pelle sana e luminosa. A presto!